Ed è critica la Presidente della provincia di Venezia dopo l'annuncio del governo di voler tagliare tutte le province. La Zaccariotto dice difficile portare avanti il progetto. L'iter che va avviato per arrivare a questa decisione è un iter complesso perché prevede la modifica della Costituzione e quindi non lo so se si arriverà, non si è riusciti a tenere ferma la posizione di abolire le province al di sotto dei 300.000 abitanti e insomma arrivare all'abolizione totale. È scettica la Presidente della provincia di Venezia Francesca Zaccariotto dopo l'annuncio del governo di voler tagliare tutte le province italiane. Previo riforma costituzionale. Insomma per il numero uno di Cacorner non è stato deciso nulla visto i tempi necessari per cambiare la carta. La Zaccariotto però critica la decisione presa all'unanimità e si stupisce come mai nessuno abbia preso le difese delle province che con i comuni rappresentano il territorio. Sempre più viviamo questa sindrome di abbandono da parte dei vertici intesi come governo e regione e quindi la vedo difficile che tutti i comuni e anche quelli al di sotto dei 1.000 abitanti vadano a bussare la porta delle nostre regioni e del nostro governo per sentirsi rappresentati e non sentirsi più come hanno sempre dichiarato fino ad oggi soggetti di serie B a volte anche di serie C. I piccoli comuni aggiunge Francesca Zaccariotto senza le province non avranno voce. La Presidente sottolina poi il lavoro dell'ente. L'ultimo intervento in ordine di tempo è a favore della riqualificazione dei lavori ex Montefibre per cui l'assessore d'Anna ha stanziato 15.000 euro. Insomma le province servono.